Dopo la bruciante sconfitta contro la Roma nel turno infrasettimanale, il Frosinone domani ospiterà il Genoa allo stadio Benito Stirpe. I giallazzurri, presso la città dello sport di Fiorentino, continuano la preparazione atletica. Rifinitura in programma oggi alle ore 15. Agli ordini di Mister Longo la squadra ha svolto lavori per reparto e concluso con una partitella a campo ridotto. Assente Bardi, colpito da un attacco febbrile, terapie per Magliello e Ardaiz. Quanto alla formazione, per affrontare il Genoa, Mister Longo non stravolgerà tatticamente la propria squadra. E dunque sarà ancora 3-5-2 ma con tanti interpreti diversi rispetto al match con i giallorossi. Questo è il probabile schieramento. Importa Sportiello, Goldaniga, Salamone e Kreinchen in difesa. Zampano, Cipsa e Alfredson con Cassate e Molinara al centrocampo. Campbell e Perizze in attacco. Quanto alla designazione arbitrale, il fischietto Sarasacchi, Alassio e vecchi suoi assistenti. Quarto uomo Cuccini, Alvar, il signor Abisso.